Recitare può essere un mestiere che consuma tutto il tuo corpo, ma questi attori, dediti a dare il massimo, hanno fatto un passo forse troppo avanti. Sebbene queste esibizioni acclamate dalla critica e dal pubblico spesso premiate con numerosi premi siano una delizia da guardare, l'esperienza di prepararsi per il ruolo e poi riprendersi ha cambiato per sempre questi attori. Lasciate un mi piace, iscrivetevi se siete nuovi al canale e mettetevi comodi perché state per scoprire quanto sia pericoloso recitare a livello da Oscar. Numero 10. Kinyu Reeves di Matrix Ricordi quei meme di Sad Kinyu o Kinyu Triste che sono diventati veramente virali negli ultimi anni? Bene, e Kinyu non è stato sempre così triste. La straziante maledizione di Matrix è iniziata quando la fidanzata di Kinyu Reeves, ossia Jennifer Sim, ha dato alla luce purtroppo un bambino nato morto. È stato qualcosa che ha lasciato il segno sulla relazione della coppia e alla fine si sono lasciati. Per rendere le cose ancora peggiori, Sim è morta poco dopo in un incidente d'auto. Dopo quel primo evento, tutti quelli intorno a lui che erano collegati al film hanno perso la vita. In primo luogo la sua coprotagonista, Alia, poi anche Gloria Foster. E poiché non aveva, a quanto pare, avuto abbastanza dolore e morte attorno a lui, lo stesso Reeves è finito in ospedale dopo un incidente in moto. Più tardi è tornato in ospedale dopo aver subito un infortunio al piede sul set. Anche sua sorella ha avuto una ricaduta nella sua lotta contro la leucemia. Fortunatamente il film è andato molto bene al botteghino, nonostante la sfortuna che ha ossessionato tutta la sua produzione e chiunque ne abbia fatto parte. Numero 9, Heath Ledger, Il Cavaliere Oscuro. La performance di Ledger nel ruolo di Joker in Il Cavaliere Oscuro era così agghiacciante che gli è valsa un Oscar come miglior attore non protagonista. Tragicamente era un premio postumo, dato che Ledger è morto per overdose accidentale nel gennaio del 2008. Negli anni che seguirono la sua morte prematura, delle voci giravano che la preparazione per il ruolo aveva contribuito alla morte di Ledger. Prima che iniziassero le riprese, Ledger si mise in un rigoloso isolamento, tenendo un diario di immagini inquietanti per entrare nel regno di uno psicopatico. Anche quando non era sul set, Ledger stava ancora cercando di migliorare il Joker. Probabilmente ho dormito due ore a notte, diceva al New York Times. Infatti quello che causò la morte di Ledger era proprio una miscela di antidolorifici e sedativi. Numero 8, Shelley Duvall, In Shining. The Shining è ampiamente considerato uno dei migliori film horror di tutti i tempi. La performance di Jack Nicholson è ancora lodata come niente di meno che brillante. La trama ci trascina nel caos che sta accadendo non solo nell'inquedante Overlook Hotel, ma anche nella mente disturbata di Jack Torrance. Potresti non aver saputo però che l'attrice Shelley Duvall non stesse nemmeno realmente recitando durante la famosa scena della mazza da baseball. Il regista Stanley Kubrick è stato un perfezionista che le ha fatto rifare la scena traumatizzante finché non era appunto per lui corretta, cosa che è diventata estremamente difficile per l'attrice. Shelley Duvall nutriva un forte odio, ha sofferto anche di malattie mentali dopo questa cosa. Poco dopo le riprese Duvall ha detto in un'intervista che affrontare giorno dopo giorno un lavoro atroce è stato quasi insopportabile. Ho dovuto piangere 12 ore al giorno, tutti i giorni. Ci sono stata per un anno e un mese. Dopo tutto quel lavoro quasi nessuno ha criticato la mia esibizione. Le recensioni erano tutte su Kubrick, come se io nemmeno esistessi. Numero 7. Arnold Schwarzenegger. Vari ruoli. Arnold Schwarzenegger è un uomo curioso perché nonostante viva e lavora negli Stati Uniti, parla ancora con lo stesso forte accento austriaco che ci ha affascinato quando ho recitato il Predator negli anni Ottanta. In un'intervista al Daily Mail dopo l'uscita di Terminator Genisys, il T-800 ha rivelato che è perfettamente in grado di parlare l'inglese senza il suo accento, ma non lo fa perché i fan si aspettano che lui parli appunto come fa in tutti i suoi film. Questo ha un senso, in quanto nella sua autobiografia Schwarzenegger sottolinea anche che ha avuto ore di lezioni con l'acclamato allenatore dei dialetti, Robert Hitson, poco dopo essere arrivato negli Stati Uniti per imparare a pronunciare più chiaramente le parole inglesi. Sembrerebbe quindi che l'accento di Schwarzenegger sia in realtà una farsa, che mantiene solo per i fan e che potrebbe benissimo parlare senza se lo volesse davvero, ma non lo fa perché la sua voce è diventata una parte della sua immagine e al pubblico oltre al suo fisico. Numero 6, Anne Hittwee in Les Miserables. Anche se non molte persone si prendono cura o amano Anne Hittwee, la sua esperienza in Les Miserables è stata veramente dura. Per entrare nel personaggio ha dovuto radersi la testa e diventare davvero magrissima, il che non è affatto facile per nessuno. Dover sopportare una delle due modifiche all'aspetto è già abbastanza difficile, ma riesce a immaginarti di liberarti dei capelli e perdere tutto quel peso. Apparentemente per Hittwee stava perdendo il contatto con la realtà. La sua dieta era pazzesca e la sua performance la colpì psicologicamente. Lei stessa ha detto Ero in tale stato di carenza fisica ed emotiva che quando tornai a casa non ho potuto reagire al caos del mondo senza essere sopraffatta e cadere un pochino in depressione. Se il video fino a qua ragazzi vi sta piacendo lasciate pure un mi piace, ma ora passiamo subito al numero 5, Sarah Poulson in American Horror Story. Sarah Poulson ha avuto un periodo piuttosto difficile nel 2016, certo. Ha avuto ruoli da protagonista in American Crime Story e American Horror Story, ma entrambi i ruoli le hanno chiesto appunto di fumare. Questo era un problema dato che nella vita reale Poulson non fuma, o almeno non lo ha fatto fino a quando non ha iniziato ad accendere sigarette più volte al giorno sul set. In un'intervista con Stephen Colbert, l'attrice ha ammesso che dopo il disgusto del fumo, la prima volta ha iniziato a desiderare le sigarette per davvero nella realtà, diventando impaziente di girare le scene in cui doveva fumare. In alcuni casi questo sarebbe chiamato metodo di recitazione, poiché la polsona che Poulson stava interpretando, ossia Marcia Clark, era una nota fumatrice a catena nella vita reale. Tuttavia è anche nota come dipendente dalle sigarette, e questo ha reso dipendente dalle sigarette anche Sarah Poulson dopo il film. Numero 4, Christopher MacDonald, un tipo imprevedibile. Christopher MacDonald non è esattamente un nome familiare, ma la sua interpretazione in un tipo imprevedibile è così memorabile che generazioni di spettatori non possono guardare una foto del suo volto senza dire «Ehi, è Shooter McGavin» o «l'ho già visto». Questo è solo un ruolo tra i tanti in una solida carriera, ma pensiamo che a MacDonald non dispiaccia di essere associato per sempre a un professionista del golf. MacDonald ha preso il ruolo principalmente perché gli piaceva giocare a golf e ha vinto un torneo poco dopo aver ricevuto appunto la sceneggiatura, anche se inizialmente aveva rifiutato, dicendo che non era desideroso di tornare su un set cinematografico dopo aver girato due film in passato, ma essere pagato per giocare a golf e frequentare Adam Sandler sembrava un affare piuttosto buono per lui. Secondo MacDonald, il suo gioco nel golf è migliorato durante il tempo passato sul set e come bonus aggiuntivo, il fatto che ora MacDonald è conosciuto come Shooter McGavin significa che fondamentalmente giocherà a golf gratuitamente per tutto il mondo senza dover mai pagare per il resto della sua vita. Numero 3, Hug Laurie in Doctor House. Durante il processo di casting di Doctor House, i produttori hanno spiegato che volevano un attore tipicamente americano per interpretare l'omonimo Doctor House. Poco prima di assumere l'attore britannico Hugh Laurie, Laurie apparentemente ha ottenuto il ruolo poiché il suo accento americano durante il provino era così convincente che nessuno si reso conto che fosse inglese, al punto che Bryan Singer lo avrebbe indicato e detto vedi, questo è quello che voglio, un ragazzo americano, anche se appunto in realtà era inglese. A tal fine anche Laurie si è messo d'impegno quando si trattava di, insomma, camminare zoppigando per interpretare il Doctor House. Così tanto che l'attore ha camminato con il bastone anche nel 2015, dopo otto anni di fila, fingendo di averne bisogno sul set. Secondo quanto riferito, Laurie ha tentato di alleggerire il carico sulla sua gamba cambiandola di tanto in tanto, cosa che nessuno ha mai notato durante le riprese e negli anni successivi allo spettacolo, ma questo comunque ha influito moltissimo sulla normale camminata di Hugh Laurie. Numero 2, la maggior parte del cast di Star Trek The Next Generation. Pochi abiti di fantasia sono immediatamente riconoscibili come le uniformi della flotta stellare indossata dal cast della serie di Star Trek. Durante la produzione di Star Trek The Next Generation, i produttori hanno aggiornato l'aspetto dei famosi vestiti utilizzando il materiale più high-tech disponibile al momento, ossia lo spandex. Per ottenere un aspetto elegante e futuristico, le uniformi sono state intenzionalmente realizzate un pochino più piccole, il che è sembrato perfetto in ripresa, ma non tanto dietro le quinte. Patrick Stewart non ameva particolarmente la divisa perché gli si attolcegliava intorno al suo busto, costringendolo ad aggiustarla costantemente durante le riprese, una mossa che i fan chiamano scherzosamente Pickard Maneuver. Un altro problema, non facilmente osservabile, era che le uniformi puzzavano e causavano problemi alla schiena. Probabilmente il danno sarebbe stato permanente se non fosse stato per l'intervento di Stewart, che gli ha detto di smettere di indossare questa divisa così stretta e hanno finalmente cambiato di nuovo. Numero 1, Colin Firth, il discorso del re. Il discorso del re è un film vincitore di un Oscar in cui Colin Firth interpreta il futuro re d'Inghilterra, ossia Giorgio VI, e deve tenere un certo numero di discorsi in aggiunta a un certo numero di altri doveri reali. Poiché un film sull'uomo che fa discorsi impeccabili ad una folla eccitata di milioni e poi si ritira nel suo castello gigante per dare un 5 a tutti quelli che conosce sarebbe stato un pochino noioso, il film ha deciso di crearsi un cattivo nella forma della balbuzia, quasi deliberatamente, che rovina quasi ogni discorso che Giorgio VI fa. Nella vita reale Giorgio VI soffriva infatti di un impedimento di pronuncia quasi identico e non l'aveva mai veramente superato. Firth ha lavorato in stretto contatto con un allenatore vocale e ha visto registrazioni di Giorgio VI che parlava per emulare sia le sue carenze vocali sia i suoi modi di fare fisici e tic nervosi di quando balbettava. Firth si è immerso così profondamente nel ruolo che ha messo in un'intervista che è caduto di tanto in tanto nella balbuzia quando parlava casualmente fuori dal set, balbettando persino durante l'intervista stessa. Da notare che questo però è accaduto anche nel maggio del 2011, ben otto mesi dopo che il film era stato presentato, a settembre dell'anno precedente. A giudicare dal modo impeccabile in cui ha pronunciato ogni sillaba in Kingsman, supponiamo che Firth abbia da allora superato la balbuzia, ma è comunque qualcosa che l'ha colpito per almeno un anno dopo le riprese del film. E questi erano dieci attori che sono cambiati completamente dopo alcuni ruoli che hanno interpretato. Cosa ne pensate di questo aspetto dalla recitazione? Pensate sia pericoloso o qualcosa di normale, che è inevitabile che accada. Lasciate un grosso mi piace se vi è piaciuto il video, perché farò una seconda parte appena raggiunti i 15.000 mi piace. Iscrivetevi se siete nuovi al canale e non dimenticatevi di seguire QB Now e Infinito Now su Instagram per moltissime altre curiosità tutti i giorni. Ciao a tutti! Grazie a tutti.